Brinkas sul pallone e Venza, Venza osserva il piazzamento del portiere, parte col sinistro, è una finta, Brinkas, palla corta, perde amici, se non lo schiavano riusciti, attenzione, Fumarola, il destro, Rete! Rete! Massimo, Fumarola, Arsett Lamori in vantaggio a Mazzafra! Ci riprova Venza, dalla bandierina, quando siamo al trentunesimo, pallone nel mezzo, Rete! 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 Ha segnato Claudio Miale, ha segnato Claudio Miale, 2-0 per il Grottaglio, il capitano, il capitano, il sigillo del capitano, il raddoppio dell'Arsett Labo! Calzettone Rossi subito, Massimo, pallone nel mezzo, c'è il gol, subito, c'è la Nete, nel Mazzafra, 2-1, doccia fredda, doccia fredda, pinto, pinto, al primo minuto della ripresa, primo minuto della ripresa, poi Vecchio, il destro, Raponi! E c'è il pareggio del Mazzafra! Ha segnato Vecchio! C'è il pareggio del Mazzafra! Vecchio, il pareggio del Mazzafra!